Chiamo Mattia Contri di SiteGround che ci parla di un tema più prosaico ma molto importante quando ci rappresentiamo e ci promuoviamo. Il tuo sito WordPress è abbastanza veloce e perché dovresti preoccupartene? Mattia Contri, SiteGround. Allora, ok. Il problema principale è come sempre il buon telecomando. Prima di tutto mi presento. Sono Mattia, lavoro per SiteGround da tre anni e ne ho trenta. SiteGround, per chi non lo sapesse, per chi non ci conoscesse, è un'azienda che si occupa di hosting. È nata 15 anni fa in Bulgaria e al momento è una dei leader del settore dell'hosting di siti web. Il mio speech di oggi sarà riguardo all'ottimizzazione di siti WordPress. Anche se molti dei consigli che vedrete in queste slide sono applicabili anche ad altri siti. Il motivo principale per il quale questo talk si occuperà di ottimizzazione è che molto spesso non ci si rende conto di quanto un sito lento può danneggiare anche un business. Bisogna tenere innanzitutto in considerazione diversi fattori. Il primo è che al giorno d'oggi esistono tecnologie che vengono rilasciate sempre più di frequente per aiutare alla performance dei siti. Il secondo è che le connessioni internet cominciano a funzionare sempre più velocemente e costano sempre meno. Il terzo fattore è che l'attention span del visitatore medio si è abbassato radicalmente. Quindi se un sito non diventa interattivo nel giro di 1-3 secondi, la possibilità che il visitatore lo saluti e non torni mai più è abbastanza concreta. Cominciamo subito a dire perché la velocità quindi conta. La prima cosa, la più importante forse per qualcuno di voi è il posizionamento sui motori di ricerca. Google, Bing, Yahoo hanno cominciato a privilegiare siti più veloci rispetto a quelli più lenti anche a parità di contenuti. Ovviamente c'è il pericolo di perdere conversione perché se un vostro utente non riesce a navigare il vostro sito sostanzialmente appunto non riuscirà a concludere un eventuale acquisto e bisogna sempre considerare che non tutte le connessioni sono in fibra. La maggior parte delle connessioni al giorno d'oggi avviene soprattutto da mobile ancora da connessioni 2G e 3G. Quindi appunto non tutti usano il 4G e se un sito non è ottimizzato soprattutto per connessioni lente il traffico ne risente parecchio. Andando avanti, questa è una slide che sostanzialmente riassume i risultati di uno studio fatto da Strange Loop circa dieci anni fa che stabilisce che per ogni secondo di ritardo nel caricamento di una pagina perdete il 7% di conversioni il visitatore lascia il sito l'11% dei visitatori lasciano il sito dopo aver visto una singola pagina e avrete ovviamente il 16% in meno di clienti soddisfatti in questo caso. Il 7% non sembra tanto non sembra tanto finché non lo si mette in rapporto con dei numeri veri. Quindi se per esempio in un mese con il vostro sito potreste guadagnare 1000 euro sostanzialmente ne state comunque perdendo 70. Non sembrano tanti, a fine anno sono 840 euro sono quasi 1000 euro persi solo per via del sito lento. Ovviamente i numeri diventano catastrofici quando si va a vedere siti con più traffico e siti con più revenue. Quindi, ancora una volta come dicevo prima se un sito non carica da 1 a 3 secondi almeno il 32% c'è il 32% di probabilità in più che vi sia un rimbalzo quindi dopo aver visto la prima pagina il visitatore se ne va. Quando si arriva a 10 la possibilità è del 123% sostanzialmente non rimane nessuno quindi quello è già un punto di... è già uno spunto su cui cominciare a riflettere. Una volta che ho attirato la vostra attenzione con i numeri partiamo con quello che si può effettivamente fare per evitare di perdere tutto questo traffico. Ovvero, la prima cosa da fare è una valutazione delle performance del vostro sito. Esistono vari tool online io ve ne propongo due che sono GTmetrix e Pingdom che sono i due più utilizzati. Il vantaggio di questi due tool rispetto ad altri sempre gratis è che danno una lista sostanzialmente dettagliata di quello che c'è da correggere sul vostro sito e una volta che farete un testo con uno di questi tool probabilmente vi ritroverete davanti ad una serie di problemi. Partendo dal presupposto che ogni sito ha un set unico di problemi di ottimizzazione possiamo dire che alcuni problemi sono abbastanza comuni quindi la soluzione si trova facilmente online e la potete applicare voi stessi. Per altre ci sarà quasi sicuramente bisogno dell'intervento di uno sviluppatore e per altre ancora ci sarà bisogno dell'intervento del vostro hosting. L'importante in questo caso è andare per priorità capire quello che potete fare prima e nel minor tempo possibile perché giustamente non tutti hanno le risorse di un Amazon o di un Google. Quindi avendo detto il perché faster is better ovvero per non perdere traffico un'altra cosa che si dice molto spesso è che less is more quindi meno è molte volte di più. Cosa vuol dire questo? Questi sono consigli che su un sito WordPress potete applicare direttamente dal pannello di amministrazione quindi vi basta entrare nel pannello di amministrazione e cercare le impostazioni necessarie per limitare gli articoli nella home page. Questo soprattutto perché ogni articolo ha le sue risorse da caricare. Più sono, più impiega tempo il browser a caricare la pagina. Mostrare solo il primo paragrafo o le prime cinque righe di un articolo nella home page dividere gli articoli più lunghi in pagine in modo che non ci siano troppe immagini da caricare o che non ci siano in generale troppe risorse e questa non piacerà alla maggior parte degli sviluppatori o dei designer che sono in sala perché bisognerebbe evitare gli slider. Il motivo è molto semplice gli slider quasi sempre usano tonnellate di javascript che rallentano il sito hanno diverse risorse da caricare e in generale appesantiscono la pagina. Infatti è preferibile usare un'immagine statica anche perché gli slider non sono mobile friendly e oggi la maggior parte del traffico che arriva sui siti è proprio da mobile quindi da smartphone, da tablet e via dicendo. Parlando delle immagini è sempre meglio invece di affidarsi ad un plugin per l'ottimizzazione direttamente ridimensionare l'immagine prima di caricarla in modo che si ha delle giuste dimensioni e con la giusta risoluzione un'altra cosa importante è usare JPEG invece di PNG PNG è un formato ad alta risoluzione con pochissima perdita di dati con zero perdita di dati JPEG qualcosina lo perde perché è un formato di compressione ma in realtà su uno schermo la differenza è sostanzialmente invisibile quindi vi conviene usare JPEG perché alleggerisce molto la pagina. Detto questo al giorno d'oggi c'è un utilizzo smodato di font il mio consiglio è quello di non usare font esterni se possibile e soprattutto di usare gli icon font che sono quei font che hanno anche le icone oltre alle lettere che sono immagini vettoriali che potete sostanzialmente poi stilizzare per chi lo usa con il CSS ma non sono altre immagini da caricare contano come font in buona sostanza. I temi sono probabilmente il punto chiave quasi sempre di un sito WordPress perché permettono di modificare il layout è importante scegliere da fonti affidabili e da market sostanzialmente diciamo solidi nel senso che rilasciano aggiornamenti con una frequenza abbastanza elevata e soprattutto bisognerebbe sempre sviluppare a partire dando la priorità al mobile perché come dicevo prima la maggior parte del traffico arriverà probabilmente da dispositivi mobile. A evitare temi multiuso ovvero se avete un blog evitare di usare un tema che è stato pensato per magari un sito aziendale o un e-commerce per il semplice fatto che avrà probabilmente bisogno per lavorare correttamente di plugin, javascript o CSS, font che magari voi non usate ma che comunque vanno a rallentare il sito in maniera abbastanza pesante. Stesso discorso vale per i plugin usarne pochi e solo se necessari un sito con 70 plugin non si caricherà mai entro tre secondi e soprattutto cercate sempre anche questi di sceglierli da fonti affidabili. La prossima slide è quella secondo me più importante perché è la necessità di aggiornare sempre tutto quello che avete sul vostro sito a partire da wordpress i temi, i plugin è sempre meglio aggiornare più che per una questione di performance anche per una questione di sicurezza perché i plugin datati possono avere vulnerabilità che sostanzialmente danno backdoor a eventuali attacchi. Un'altra slide solo per farvi un po' di paura al giorno d'oggi il 79% delle pagine internet pesano più di un mega il 53% supera i 2 mega e il 23% supera i 4 non sembra tanto un mega finché non si vede che da connessioni 3G un mega e mezzo impiegano almeno 7 secondi per caricarvi. Se vi ricordate la slide di prima arrivati al 10 il 123% se ne vanno arrivati a 7 circa l'80% vi ha già salutato. Questi erano sostanzialmente fix e semplici che potete tranquillamente applicare anche voi e che sostanzialmente dipendono anche un po' dal buon senso. Questi invece sono quelli più avanzati. Si definiscono avanzati ma in realtà per i clienti di SiteGround questo è semplicemente un click su un plugin tutte queste tre cose. La compressione Gzip sostanzialmente comprime l'output quando dà i file al browser. La minifica e l'unione dei javascript e dei css elimina e unisce in un singolo file tutti gli spazi bianchi che ci sono nei file statici e il caching della pagina è una cosa che noi offriamo direttamente dal lato del server e che sostanzialmente fa in modo che il primo visitatore dopo aver pulito fatto un cambiamento deve ricaricare il sito dinamicamente ma tutti quelli dopo lo caricano direttamente dalla RAM del server. Su questo ci ritorniamo dopo. Ci ritorniamo adesso in realtà. Queste sono le cose che potete far voi. Giustamente anche noi dobbiamo fare qualcosa per darvi una mano. Quello che fa SiteGround è aver sviluppato una piattaforma negli anni che punta soprattutto oltre che sulla qualità e sulla sicurezza anche sulla performance vera e propria dei siti che ci ospitate. Abbiamo sviluppato queste tre ottimizzazioni o meglio abbiamo sviluppato abbiamo integrato queste tre ottimizzazioni principali si tratta di caching a livello di server noi abbiamo sviluppato abbiamo implementato Nginx come reverse proxy di Apache per qualcuno di voi questo non varrà a dire nulla ma in realtà è molto semplice vuol dire che invece di venire a caricare il sito direttamente dal server lo serviamo da un livello di cache prima del server che tiene memoria a tutti gli output PHP e tutte le richieste al database queste sono cose che soprattutto il caching letteral server sono cose che deve fare il vostro hosting quindi noi nel nostro caso appunto abbiamo anche sviluppato un plugin con il quale è possibile gestire ben tre livelli questi tre livelli di cache una è la cache statica che serve direttamente dalla RAM del server i file statici quindi HTML JavaScript CSS immagini poi abbiamo un livello di cache dinamica che memorizza l'output di tutte le operazioni PHP in modo che non debba il server ogni volta rifarle ma semplicemente le serve dalla propria memoria e un livello di cache memcached che lavora su database quindi ogni richiesta database viene presa messa a memoria e l'output viene poi servito direttamente dal livello di cache per migliorare ulteriormente la performance del server potete considerare io lo consiglio vivamente un servizio di CDN che sta per content delivery network sostanzialmente è un servizio che distribuisce su più nodi in giro per il mondo i vostri file statici in modo che un visitatore per esempio dall'Australia invece di dover arrivare al data center si ferma molto prima perché trova i file già pronti su un server più vicino a lui noi in SiteGround abbiamo implementato Cloudflare come servizio di CDN è attivabile gratuitamente quindi vi basta veramente anche in questo caso cliccare un pulsante nel pannello di controllo e è tutto configurato fino a poco tempo fa l'SSL veniva considerato una causa di rallentamento del sito in realtà questo non è più vero se mai lo è stato questo non è più vero perché da quando è stato rilanciato rilasciato il protocollo HTTP2 se avete un server che lo supporta e i nostri lo fanno e un certificato SSL valido e noi lo offriamo gratis potete sfruttare questo protocollo e il server è molto più veloce nel servire il sito di recente non c'è nella slide perché è abbastanza recente di recente è stato implementato anche il protocollo HTTP3 che rende il server più veloce o meglio che rende il sito più veloce anche su connessioni lente quindi non è più necessario avere la fibra per ottimizzare bene il sito ma con l'HTTP3 e il protocollo che ora si chiama Quick è possibile tramite Chrome e Opera avere il sito comunque veloce anche su connessioni un po' più lente questo in realtà è quanto vi lascio il link all'ebook questo vi consiglio di scaricarlo avevamo qualche copia fisica ma penso siano già finite tutte perché con alcuni consigli oltre a questi che ho menzionato ci sono alcuni consigli su come ottimizzare ulteriormente il sito sulla stesso sul nostro sito trovate anche altri due ebook che sono per l'ottimizzazione di WooCommerce e la sicurezza del vostro sito WordPress e quello secondo me è abbastanza importante una letta io glielo darei e niente grazie di tutto grazie per l'attenzione se avete bisogno mi trovate al banchetto grazie a tutti grazie